Siamo in terza circoscrizione, una circoscrizione abbastanza ampia con circa 80.000 residenti. Chiaramente i problemi che attanagliano questa circoscrizione sono quasi simili a tutti quelli dell'altra circoscrizione. Purtroppo però ultimamente noi abbiamo un problema molto importante. Si tratta del rilascio della carta di identità che da circa 5 anni questo servizio non è offerto ai cittadini. Quindi sarebbe inutile ripercorrere il periodo di 5 anni tutto quello che è successo perché sono stati vandalizzati i locali, è stata portata via la cassaforte. Quindi per 5 anni chiaramente la gente è stata costretta a girovagare per le varie circoscrizioni pur di riuscire ad ottenere questo famigerato documento importante come la carta di identità. Dal 2022 il Consiglio di circoscrizione si è attivato insieme col Presidente per riuscire finalmente ad ottenere questo servizio. Vi sono state diverse interlocuzioni con l'assessore di competenza Falzone, ci ha fatto diverse promesse. Però diciamo fino ad oggi questo servizio non è erogato. Finalmente a giugno del 2022 il Ministero degli Interni ha mandato i macchinari affinché in via la colla appunto nella sede della terza circoscrizione potessero partire questo servizio. Potesse partire questo servizio. Pensavamo chiaramente, c'era l'estate, già da settembre finalmente questo servizio potesse partire affinché i cittadini abbiano questo servizio. Siamo nel 2024, quasi da due anni in cui l'amministrazione si è insediata. A tuttora purtroppo per motivi vari si parla di personale che ancora va in pensione, non c'è una sostituzione di personale, non si trova ancora le persone che possono svolgere questo servizio perché chiaramente è qualificato e quindi bisogna trovare il personale adatto. Però noi chiediamo ormai con tanta sollecitazione questo servizio affinché finalmente i cittadini possono usufruire e non vadano girando per l'intera città.